In prestito dal Monza è arrivato alla corte di Mister Modesto l'attaccante Mirko Maric, croato con cittadinanza bosniaca. Lo scorso anno, con la maglia dei Lombardi, ha collezionato 21 presenze nel campionato cadetto, siglando due gol. Amico dell'ex bomber storico dei Rosso Blu, Ante Budimir, in maniera raggiante e spavalda, si presenta così alla sua prima intervista da squalo. Sono contento di essere qua, di essere giocatore di Crotone. Sono arrivato cinque minuti prima di partita, ho visto una bella partita, abbiamo giocato molto bene, molto aggressivo, tanta corsa, abbiamo fatto molto molto bene. Ho visto una squadra che gioca come squadra, non individuale, penso che è la nostra forza in quest'anno. Quando ho sentito che ci interessa di Crotone, per me, io ho chiamato lui, mi ha detto tutto bene, le belle cose. Sì, lui ha fatto molto molto bene qua, penso che anche io farò come lui ha fatto. In 3-4-3, posso giocare come prima punta o anche come trequartista a destra, vediamo, questo è solo l'allenatore. Ma io so che voglio dare ogni allenamento 100% a ogni partita e questo per me è più importante, che io faccio ogni allenamento e partita 100% e dopo, dopo arriva, penso che arriva tutto e tutto altro. Penso che sto bene perché ho fatto un ritiro con il mister Stroppa, 40 giorni ho fatto molto bene, tanti allenamenti, ho fatto sei partiti amichevoli e penso che sto bene e sono pronto. Grazie. Grazie.